Musica Siamo giunti all'appuntamento con informazione dalla provincia di Monza e Brianza e sarà realizzata la stazione Monza Est sulla linea del Besanino ad annunciarlo al Ministero delle Infrastrutture e sarà RFI a mettere i 5 milioni oggi mancanti avviato il progetto di fattibilità quasi mille nuovi alberi andranno a rinverdire il parco di Villa Reale di Monza ferito dai disastri meteorologici degli ultimi mesi l'intervento grazie alla collaborazione tra Consorzio ed Ersaf firmato in prefettura l'accordo per i lavori di adeguamento della sede della Polizia Stradale di Arcore attiva da 20 anni di cantiere durerà un anno dal comune spazi alternativi questi erano i nostri titoli vediamo ora il telegiornale della provincia di Monza e Brianza la stazione Monza Est si farà è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico-economica e sono state trovate le risorse ad annunciarlo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto che ha un valore di 6 milioni e mezzo di euro vedrà la compartecipazione di RFI per 5 milioni e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco per completare l'opera mancavano delle risorse e su richiesta del territorio, comune e regione il Ministero si è attivato con gli enti preposti RFI ha recuperato i fondi per la realizzazione dell'opera l'attivazione della fermata è prevista nella seconda metà del 2027 da tempo come Regione Lombardia chiedevamo di reperire le risorse mancanti per la sua realizzazione commenta l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi ora con l'intervento del Ministro Matteo Salvini RFI ha recuperato 5 milioni è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico-economica il progetto prosegue Terzi fondamentale perché con il passaggio del treno Besanino i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza quasi mille nuovi alberi andranno a rinverdire il parco di Monza ferito dai disastri meteorologici degli ultimi mesi ad annunciarlo il consorzio per la Villa Reale e il parco di Monza si tratta per l'esattezza di 953 tra alberi e arbusti tra questi l'acero, il ciliegio, la quercia, il nocciolo la rosa selvatica, il tiglio le piante sono state prodotte la vivaio forestale regionale di Ersaf a Curno sono piantine selvatiche di età compresa tra 1 e 3 anni prodotte con seme raccolto in boschi, filari campestri e ambienti naturali per i prossimi anni si prevede la piantumazione e la cura di oltre 10.000 esemplari l'intervento è stato realizzato dalla struttura Ersaf di Milano e rientra tra le attività previste finanziate dall'accordo di programma per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale del Parco sono molto soddisfatto per la professionalità del personale di Ersaf e per questo ringrazio il direttore generale Massimo Ornaghi con cui abbiamo condiviso da primo giorno lo stesso approccio lavorare per la tutela del Parco di Monza spiega Giuseppe Di Stefano direttore generale del consorzio un grande aiuto straordinario e incondizionato lo abbiamo ricevuto in quei giorni di fine luglio a poche ore al concerto di Bruce Springsteen Ersaf ha messo in campo tutte le forze a disposizione con personale e macchinari per mettere in sicurezza i viali e le aree dove martedì 25 luglio hanno transitato oltre 73 mila spettatori la collaborazione tra consorzio ed Ersaf nei nostri piani condivisi con Regione vede la realizzazione di una sede distaccata dell'ente dentro il Parco di Monza per pianificare con efficacia e competenza la gestione del patrimonio verde dell'intero parco la collaborazione con il consorzio per la Villa e il Parco di Monza rientra pienamente nelle attività di Ersaf dice Massimo Ornaghi direttore di Ersaf è un lavoro che non si limita solo alla ripiantumazione del patrimonio arboreo andato distrutto con i drammatici eventi meteorologici di luglio ma si prolunga anche nella cura e nella manutenzione di tutto il parco sappiamo bene infatti come sia fondamentale la successiva attenzione alle piante per evitare problemi in futuro come Ersaf abbiamo tutte le competenze tecniche per supportare il consorzio per la tutela e la valorizzazione del parco firmato in prefettura Monza il protocollo per l'avvio dei lavori di adeguamento della sede della polizia stradale di Arcore attiva da quasi 20 anni si tratta di un accordo che coinvolge oltre alla prefettura il comune di Arcore proprietario dell'immobile ed ente appaltante dei lavori il compartimento della polizia stradale della Lombardia e la società Milano Serravalle Milano Tangenziali SPA che contribuirà agli interventi di adeguamento il protocollo avvallato anche dagli organi centrali competenti prevede che per il periodo dei lavori sull'immobile il personale della sottosezione di Arcore potrà usufruire di altri alloggi messi a disposizione in via temporanea da parte del comune di Arcore consentendo così di assicurare la continuità dei servizi di vigilanza e controllo sulla rete autostradale di competenza tutta la tangenziale nord di Milano e parte della tangenziale est i tempi necessari per la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono stimati in circa un anno tutte le parti coinvolte spiega la prefettura hanno accolto con favore l'iniziativa evidenziando che l'accordo raggiunto rappresenta un esempio dell'ottima collaborazione interistituzionale che contraddistingue questo territorio Dopo le bombe d'acqua degli ultimi mesi anche Briosco si prepara a intervenire sul proprio territorio comunale per rinforzare il sistema fognario e di gestione delle acque un piano di interventi realizzato da Brianza Acque che riguarderà l'area mercato della Campagnola e via Donizetti A seguito delle bombe d'acqua che hanno preso di mira soprattutto i territori della bassa Brianza ma anche noi siamo stati toccati alcune volte ci rendiamo conto che ci sono delle situazioni da attenzionare e Brianza Acque già aveva delle progettualità che andavano in questa direzione e a Briosco arriva siamo i primi metà dei comuni che sono stati messi in conto per fare i servizi quindi sono quelli che hanno più problemi e Briosco ci entra dentro sono quelli che hanno una rete più antica più vetusta quindi come primo intervento sarà un intervento una vasca di raccolta che verrà effettuata nella zona campagnola dove conterrà tutte le acque che purtroppo oggi sono incontrollate perché non riescono ad essere incanalate nelle tubazioni che abbiamo perché non sono abbastanza grandi da poterle contenere e quindi poi verranno incanalate le acque lì e poi con calma defluiranno nei tubi che ci sono adesso che non possono raccogliere queste bombe d'acqua quindi questo intervento sarà fatto il prossimo anno il centro ist infezioni sessualmente trasmesse di Mugio promuove per il primo dicembre giornata mondiale di lotta all'AIDS un'apertura straordinaria per le persone che desiderano eseguire accertamenti o vere informazioni sull'HIV si tratta di un'iniziativa estremamente importante afferma il professor Paolo Bonfanti direttore delle malattie infettive della fondazione IRCS San Gerardo dei Tintori e direttore della scuola di specializzazione di malattie infettive dell'Università degli Studi di Milano Bicocca il numero di nuovi casi di infezione da HIV e AIDS segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità è tornato a salire dopo la pandemia motivo per cui bisogna tornare con forza a sensibilizzare le nuove generazioni la cultura della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili è uno dei cavalli di battaglia dell'IST nel 2023 sono stati registrati 2.900 accessi al centro in netto aumento rispetto al 2022 e sono stati diagnosticati 4 nuovi casi di infezione da HIV e 260 tra sifilide gonorrhea e clamidia anche se oggi disponiamo di terapie efficaci prosegue Bonfanti l'HIV rimane una patologia potenzialmente grave soprattutto se riconosciuta tardi da qui l'importanza di proposte come questa volte a riportare l'attenzione su questa malattia e far emergere il sommerso dei casi non ancora diagnosticati questa iniziativa aggiunge la dottoressa Laura Corsico responsabile del centro IST di Mugio è un'occasione per poter ricevere informazioni corrette rispetto alle modalità di trasmissione di queste malattie acquisire conoscenze relativamente alle varie possibilità di autotutela e protezione e alla possibilità di prevenzione attraverso vaccinazioni mirate sarà anche l'occasione conclude Corsico per parlare di profilassi preesposizione uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato ed è una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica l'accesso al centro aperto a tutti dalle 8.30 alle 18.30 gli esami saranno eseguiti gratuitamente grazie per averci seguito termina così questa edizione del nostro notiziario vi ricordo la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda sulle nostre pagine social e sul canale youtube di Unica TV grazie ancora appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti